Ciao a tutti, un nuovo allenamento proprio con un tanto bel trampolino per allenare l'abdome. Io oggi voglio veramente lavorare sull'abdome e lavoreremo proprio su le nostre, diciamo, core muscles, ma non solo. Obliqui, andiamo a lavorare su tutto l'abdome, riscaldiamo, aspettando che parte la prima, diciamo, circuito, che fa 10 secondi. L'importante è di farlo con tutto voi stessi, ok? Partiamo con la nostra sciabolata, su, siamo pronti? Vai, ok, destra e sinistra, vai. Gira giù, tira giù, tira giù, bravi, vai, 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 tira giù, tira giù, tira giù. Abdominali, porta le spalle in avanti, spalle in avanti, vai, 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 ancora. Abdominali tesi, mi raccomando, eh? Un bello 10 minuti proprio dedicato all'abdome. Quanto mi piace l'abdome! Ancora. Continuati, dai, adesso è sinistra. 25 secondi, poi cambiamo il nostro esercizio. push, push, ah, vai, vai, ancora, tira, tira, 3, 2, stop. Eccellente ragazzi. Eccellente. Ok, scendiamo giù, andiamo a fare il nostro 100, ok? Scendiamo, 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 scendiamo. Ok, ok. Tira dentro l'abdome, ok? Se non avete il trampolino, muoviti le braccia, ok? Muoviti le braccia. Dai, dai, dai. Ok. Continui, continui, abdominali tesi, 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 abdominali tesi. Respira, ok? Porta su le spalle, su, su. Ok. Piccola contrazione per l'abdome. Alto abdome, vai, vai. Vai, come on. Tira, 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 bello. Continuate. Concentratevi, concentratevi. Vai, vai, vai. Tira su, tira, tira, tira. And stop. Ok. Riprendete il thunderbell, riprendete il thunderbell, ok? E ci si passa da una mano all'altra con torsione di busto, ok? Vai. Controllo di busto, di braccia. Oh, vai, vai, vai. Tutto l'abdome, questo è solo l'abdome, questo clip. Tira, tira. Vai, vai. Spingi anche con le gambe. Ah, vai. E voi che ti sentite che state facendo proprio un massaggio sullo vostro abdome. Tira, tira. Vai, vai. Terzo esercizio. Dobbiamo fare dieci esercizi. Vai. Ah. Busto, busto. Vai. Torsione, torsione. Ok. Notate che anche il mio bacino è leggermente curvo. portano avanti. Lavorare bene sull'addome. Tira, tira. Vai. Vai, vai, vai. Tre, due, uno. Stop. Ok. Prendiamo il nostro thunderbell. e facciamo una torsione, ok? Busto verso la gamba, ok? Torsione, ok? Ma spingendo sempre molto bene sul trampolino. Vado. Ah. Vado. Tiro. Ah. Ah. Spale e gamba insieme. Vai. Ah. Ah. Tira. Ok, bello compatto. Tira dentro l'abdome. Ah. Ah. Ancora. Sì. Boom. Ah. Come va. Torsione di busto. Gambe e busto insieme. Spingo. Spingo. Vado. Sì. Uh. Yeah. Tira. Ok. Cambio lato. Cambio lato. Cambio. E spingo giù. Piede di mano sul tappeto. E concentri proprio sulla torsione della spalle. Fino in fondo. Fino in fondo. Continui. Continui. Tira. 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 Ancora. 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 Two. And one. Ok. Giù. Biciclette ragazzi. Ok. Biciclette. Ok. Giri anche busto. 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 Insieme. Con le spalle. Vai. Vai. Continui. E allungo. Come on. Come on. Vai. 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 Abdominali. Continui. Siamo sul quinto esercizio. Metà strada. Sì. Siamo. Vai. 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 Poi dopo dobbiamo fare le nostre planche. Lo sapete che io amo i planche. Le planche sono... E in ogni salsa è importante. Dai. Dai. Tre. Due. Uno. Ok. Vai indietro. Andiamo giù. Dobbiamo giù. Ok. Sesto esercizio. Plancia. E solevo. Solevo. Vai. Ok. Wow. Pavimento scivoloso stasera. Che vuol dire che devo lavorare ancora di più. Ok. Sollevo. Sollevo. Vado. Tirate dentro l'abdomen. Tiri dentro l'abdomen. Come on. Come on. Come on. Eccellente. Dai ragazzi. Bel lavoro. Continui. Ah sì. 25 secondi. Dobbiamo continuare. 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 Vai. Spingo. Vai. Continui. Continui. Dai. È un lungo. È un lungo. Continui. Anche le braccia lo senti. Vai. Non finire adesso. Non finire adesso. Ci siamo quasi. La meta sta là. 3. 2. 1. Stop. Eccellente. Settimo esercizio. Settimo esercizio. Siamo oltre la metà del lavoro. Oltre la metà del lavoro. Dai. Ok. Sollevo. Un altro lungo. Vai. Tira. Ti ho detto. Abdominali ragazzi. E non stavo scherzando. Abdominali. Tira su. Vai. Sollevo il fianco ogni volta che passo sotto con il Thunderbell. Ok. Su. Passo sotto. Vai, 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 vai. Dai, lo senti. Vai, vai, vai. Lo senti. Continui. Wow. Yeah. Così mi piace. Così. Sto scivolando con i piedi. Però bello perché devo lavorare di più. Su. Sotto. Tiro su. Tiro. Tiro. Vai. Come on, come on, come on. Tiro su. Vai. Vai. Tira, tira, tira. 3, 2, 1. Stop. Eccellente ragazzi. Ok. Mettiamoci in V. Ok. Un bello V. Tidiamo le gambe su. Scendiamo lateralmente. Giù. Su. Giù. Su. Giù. Su. Giù. Rimango su. Prendo il Thunderbell. Andiamo al Russian Twist. Twist. Oh yeah. L'ottavo esercizio. Ci siamo. Ci siamo quasi lì, eh. 4, 3, 2. Tiro su. Su. And, 2. And, 3. And, twist. Go, go. Ah yeah, yeah. Ok. Cambio il lato. Cambio il lato. Bravi ragazzi. Laterale. Ok. Su. And, su. And, su. Ancora. Su. Rimaneteci in Russian Twist. Ah. Continuate. Bel lavoro. Continuate. 8, 7, 6, 7. 5, 4, 3, 2, e 1. Uh. Torniamo su. Torniamo su ragazzi. Stiamo facendo un lavoro eccellente. Ok. Ci siamo. Ci siamo. Ok. Destra e sinistra. Vado. Ok. Una torsione. Spade viene in avanti. E sto lanciando Thunderbell destra e sinistra. E freno con gli abdominali. Provi di sentire proprio sotto le costole. Ok. Dove c'è la diaframma. Destra e sinistra. E tira, tira. Vai. Senti come ti stai massaggiando organi interni. Tira, tira, tira. Wind is rolling down. Continuate. Vai. Vai. Lo senti? Che bel lavoro. Dai. Dai, 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 dai. 25 secondi. Poi finiremo con una plancia. Una mega plancia. Perfetto. In bellezza. Dai. Ci siamo. 3, 2, 1. E stop. Bell'allenamento, ragazzi. Bell'allenamento. Ok. Portiamo. In plancia. Andiamo. In plancia. In plancia. In plancia. Braccia tese. Ok. E comincio a premere con i piedi. Su con l'abdome. Ok. Se è troppo difficile con le braccia tese, potete anche mettere i gommetti giù. Ma tiri su. Ombelico su. Ok. Mi giro poco poco. Così mi venete meglio. Tiri su. Ancora. Proprio come se stessi raccogliendo tutto l'abdome verso alto. Ok. Che ti solleva verso il soffitto. Tira. 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 Tira ancora. Vai. Vai. Ci siamo quasi finiti. Questo è il diecimo esercizio. Tiri su. Abdominali. Scatto finale, ragazzi. Bel lavoro. Bel lavoro. Continuiamo. Ci siamo. La meta sta qui. 4, 3, 2, 1. E stop. Eccellente. Bellissimo il nostro allenamento functional con trampolino Thunderbell dedicato all'abdome. Mi raccomando. Iscrivetevi al mio canale se volete trovare altri esercizi. Condividetelo. Create un playlist. Un playlist con tutti i video che preferite. Così dentro quel playlist troverai sempre l'allenamento che ti piace di più della Jill. E vi spiego sempre qui sul mio canale YouTube. Vi voglio bene. Ciao ragazzi. Passate un'ottima giornata. Passate un'ottima giornata.